Al Luca Vallese l'allenamento congiunto tra i padroni di casa dell'Alba Adriatica e il pineto di Mr. Pomante termina 5-0 in rete per l'11 ospite Capitan Pepe, doppietta del neoquisto Cardella e Cercelluti nel primo tempo nella ripresa Minincleri completa il tabellino dei marcatori. Tanti esperimenti per i biancazzurri del presidente dottor Silvio Brocco, un amichevole d'alto lignaggio per gli albenzi in vista del massimo campionato regionale per quanto concerne la formazione del confermato tecnico De Amicis. In questo momento stiamo lavorando parecchio, i carichi di lavoro si fanno sentire, quindi queste partite iniziali non sono ancora attendibili per quello che sarà l'anno, però sicuramente è una squadra costruita, una squadra importante, sono arrivati i giocatori che l'anno scorso hanno fatto bene, è rimasto un bel gruppo che l'anno scorso ha vinto la finale, quindi diciamo una buona squadra. Riccardo della Quercia, sì, quello è uno schema che stiamo provando, quest'anno è andata bene, anche se Riccardo voleva fare golla, ha sbagliato, poi sono arrivato io per fortuna, però è stato bravo, dai Riccardo. Noi siamo un pochettino indietro, praticamente sono andati via quasi tutti i titolari dell'anno scorso, quindi c'è da rifare la squadra completamente nuova da capo, ci manca più di un tastello, ci mancano 3-4 tastelli se vogliamo, anche se oggi devo dire tutto sommato i primi 20-25 minuti abbiamo retto bene il campo, poi preso il primo gol effettivamente ci siamo un po' disuniti, il Pineto è una squadra di categoria superiore, forte 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 forte, che non ha sicuramente i nostri problemi, anzi.